Rinforzare la squadra senza intaccare gli equilibri. Di comune intesa con la triade, Michele Pazienza nel post-gare dello Zaccheria di Foggia ha ribadito quelle che sono le linee guida di un mercato che cozzano non poco con la voce rimbalzata in mattinata da Catania di un interessamento dell'Avellino per Cosimo Chirico. 32enne in uscita dal club rosso-azzurro dopo il mercato faraonico degli Etnei. Una voce che in Irpinia si sono affrettate a smentire ma che potrebbe essere anche figlia di un'azione di disturbo. Di certo in attacco l'Avellino punta su qualche elemento che possa alzare la qualità. Diverse le piste seguite. L'ultima è stata sondata giovedì scorso con una telefonata di Pier Francesco Strano e Luigi Condò a Paolo Tricoli, agente di Riccardo Tonin, 21enne del Foggia, che sabato sera si è fatto notare spesso dalle parti di Fabio Tito. Richiesto anche dal Brescia. Il discorso potrebbe essere ripreso in questi giorni, soprattutto se il Foggia dovesse aprire uno spiraglio alla cessione. Con 5 gol e 5 assist, del resto Tonin tra le poche certezze di una squadra in crisi. Alla ricerca dell'elemento di qualità nella giornata di ieri, Perinetti, Condò e Strano hanno dato un'occhiata attenta anche ad Ascoli e Bari, perché tra i marchigiani, Giacomo Manzari, 23enne, esterno, trova sempre meno spazio al pari di Ismail Aschik, marocchino della stessa età che pazienza conosce benissimo per averlo lanciato al Cerignola e che a Bari è sempre più chiuso anche dal recente arrivo di Puskas e Callon. Per il difensore, infine, Matteo Solini, 30 anni del Como, che è rimasto pure lui sabato scorso a guardare i compagni in Serie B dalla panchina, resta in pole. Su di lui però c'è la concorrenza, ed è anche sfrenata, di Vicenza, Torres, Catania e del Cosenza.